Diciassettesima domenica del tempo ordinario. Nel Vangelo di Matteo si conclude il discorso in parabole di Gesù con tre belle immagini del regno dei cieli. Quella del tesoro nascosto nel campo, quella della perla preziosa, quella della rete da pesca da cui poi vengono discriminati, selezionati i pesci tra buoni e cattivi. Immagini del regno come le altre che abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti. Che cosa dice oggi la parabola del regno dei cieli simile al tesoro del campo di una perla preziosa? Dice che quando si è trovato ciò che davvero conta per la vita eterna, ciò che conta nella vita in ogni caso, adesso può essere subordinato tutto. Il regno dei cieli diventa cioè il tesoro così prezioso per il quale vale la pena lasciare tutto, vendere tutto, mettere tutto in secondo piano. È un'affermazione forte questa che dice l'importanza di mettersi in ascolto e di mettersi alla ricerca. Perché qui c'è un uomo che cerca e trova un tesoro in un campo, poi lo nasconde e va e compra il campo. E c'è qualcuno che trova una perla preziosa, evidentemente cercava perle preziose. E allora questo ricercare ciò che conta e una volta trovato ciò che conta, considerarlo un tesoro, metterlo nel posto più prezioso, più riposto, più sicuro e custodirlo. Dice l'importanza di mettersi alla ricerca del regno e alla sequela di Cristo. È Lui il regno di Dio venuto in mezzo a noi, è Lui che ha parole di vita eterna, è Lui che dona e quindi concede anche la possibilità di seguirlo, dona la salvezza e concede la possibilità di riceverla, di custodirla. Sono delle parabole significative perché mettono una sorta di sigillo su tutto il discorso parabolico di Gesù, un senso di certezza, di assolutezza che la ricerca ha una meta, che raggiunge il risultato, che non è vano cercare ciò che davvero conta nella vita. E rispetto al disorientamento del nostro tempo, alle incertezze, alle domande qualche volta senza risposta, sentirsi dire che mettersi alla ricerca consente di giungere alla meta e questa meta è un tesoro prezioso, qualcosa che vale la pena cercare. È davvero una cosa importante. Siamo nel tempo del pensiero debole, del cosiddetto relativismo, dove c'è la verità a poco peso, dove si parla delle verità a tutti i campi, a tutti i livelli. Non esiste ciò che davvero conta e che in qualche modo mette in riga, mette in subordine tutto il resto, secondo la nostra mentalità odierna. Invece l'Evangelo di oggi ci dice che esiste qualcosa per la quale vale la pena che tutto il resto segua. E non si tratta di far valere una verità dottrinaria. Non è questione semplicemente di subordinare a un Moloch, a un Dio che tutto esige dagli uomini i propri legittimi desideri, interessi. Al contrario, si tratta di capire che qui c'è un regno che è la vita, c'è un regno che è la gioia, che è la pace. E per questo vale la pena davvero custodire il dono, perseguirlo con fedeltà, con perseveranza. Perché poi verrà il giorno, ecco la terza parabola, quella della rete da pesca, in cui ci sarà la cernita dei pesci. Solo allora sarà il giudizio, come un po' ci raccontava la parabola della zizzania di domenica scorsa e del grano buono. Alla fine dei tempi, alla fine del mondo, verrà fatta discriminazione, distinzione tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. Non sta a noi il giudizio, ma sta a noi, lo ripeto ancora, la ricerca instancabile. E poi il desiderio e la volontà di seguire e di custodire ciò che si è trovato. Ora per questo c'è anche una grazia a nostra disposizione, la preghiera, la preghiera di chiedere a Dio la capacità di cercare, il desiderio di cercare. E poi anche la forza di perseverare una volta ricevuto il dono, perché non è scontato che il dono ricevuto sia custodito sino alla fine. Abbiamo l'esempio del re Salomone, del quale parla la prima lettura, il quale fa una preghiera molto bella a Dio. Dio gli appare in sogno e gli chiede dimmi che cosa vuoi che io ti conceda. E Salomone, figlio di Davide, appena eletto re, giovane, si sentiva inesperto delle cose di governo, chiede a Dio la sapienza per reggere il popolo, per fare giustizia al suo popolo, per distinguere il bene dal male. E Dio gli risponde poiché hai chiesto una cosa buona, non hai chiesto potere, non hai chiesto ricchezza. Allora io questo ti concedo, non ci sarà nessuno più grande di te. È vero, nel mondo antico la sapienza di Salomone è diventata proverbiale, venivano da ogni parte per conoscerlo, per ascoltarlo. Ma poi sappiamo com'è andata. Negli ultimi anni Salomone è andato dietro a delle donne straniere, è diventato loro succube, è finito per adorare le loro divinità allontanandosi del Dio vero. Dunque la sapienza che aveva ricevuto in dono non ha saputo custodirla sino alla fine. Tuttavia la preghiera di Salomone indica davvero l'atteggiamento retto del cuore, che cerca ciò che è bene, e dunque ciò che è capace di distinguere la verità dalla menzogna, il giusto dall'ingiusto, il bene dal male. Nel nostro tempo abbiamo l'impressione a volte che si desideri confondere il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, la verità e la menzogna. Allora siamo chiamati a un discernimento anzitutto di ciò che davvero preme chiedere per noi, ancora una volta alla ricerca di ciò che è bene. Il tesoro prezioso è la vera sapienza, quella che ci mette dinanzi alla parola di Dio e ci fa comprendere qual è il disegno di Dio sull'uomo, su ciascun uomo, su di me e sulla storia dell'umanità. Questa sapienza permette di andare in fondo, accogliere ciò che davvero è buono, ciò che è vero, ciò che è giusto. E dinanzi a questo poi sorge la domanda come fare per custodirlo sempre, come fare per non smarrirsi, a differenza di ciò che accade a Salomone ad esempio, ma che accade a tanti e può accadere nella nostra vita. Tenersi stretti alla parola di Dio, tenersi stretti a questo tesoro trovato, perché ogni tesoro può essere perduto, nulla è garantito per sempre qua giù sulla terra se non riusciamo a sentire sempre l'ansia della ricerca e il desiderio del possesso di ciò che è buono. E Dio non desidera certamente che noi ci perdiamo, né desidera che perdiamo la verità, l'amore, l'eredità beata di cui parla Paolo. Allora ecco che entrare in una via della sapienza significa leggere anche i segni della vita personale e della storia. Tutto è bene, lo dice Paolo, nella lettera ai Romani. Tutto concorre al bene di di coloro che amano Dio. Non esiste nessun momento della vita, nessun evento, neanche il più disastroso, quello che noi chiamiamo il più disgraziato della storia o della vita, che sia in qualche modo privo di un aspetto positivo rispetto all'evoluzione del nostro cammino. Non perché il male possa essere un bene, ma perché Dio dal male sempre può ricavare un bene. E allora dire che nella vita di chi ama Dio tutto concorre al bene significa che anche la sofferenza, anche le prove, anche le croci, anche ciò che non si capisce può tornare in qualche modo a diventare riconoscimento di verità, apprezzamento del bene, perseguimento della giustizia in fondo, cioè seguire un cammino che è verso la salvezza. Sono parole, queste della liturgia di oggi che dicono molto all'uomo contemporaneo, come vorremmo che tanti che hanno la necessità di trovare sapienza per l'arte del governo la chiedessero a Dio. Per fare ciò che è giusto per il popolo, la giustizia, il bene comune, il bene di tutti, la pace, ecco, sembrano cose che interessano a pochi, diventano materia di, come dire, di sognatori, di idealisti, non piuttosto di impegno fattivo, di politici, di responsabili delle nazioni, di costruttori dell'economia, di costruttori delle relazioni fra i popoli, del diritto internazionale. Su queste sponde varrebbe la pena spendersi davvero, giungere a declinare l'impegno morale, religioso, civile, per rendere giustizia al popolo. È questo che Dio sogna in fondo, perché quando dice Paolo che Dio conosce da sempre gli uomini, che li ha predestinati, cioè li ha eletti, li ha scelti, li ha eletti ciascuno, non soltanto pochi privilegiati, e poi li ha chiamati e poi desidera giustificarli, cioè salvarli e glorificarli, dar loro l'eredità beata nei cieli. Quando sentiamo dire questo da Paolo sappiamo allora che il disegno di Dio è un disegno di bene e che davvero tutto può concorrere a questo bene. Allora cercare la sapienza a tutti i livelli, nella vita personale, nella vita economica, nella vita sociale, nella vita civile, politica, a livello mondiale, sentiamo in questi giorni la sofferenza di tante cose drammatiche che accadono ovunque. Ecco tutto questo ci mette dinanzi ad una sola necessità, mettersi alla ricerca di ciò che è buono. Ecco il tesoro nascosto, ecco la vera sapienza che fu di Salomone, ma la sapienza del regno, quella che dice Gesù al termine della parabola. Avete capito? Dice i discepoli. Ecco allora uno scriba buono è come un padre di famiglia che tira fuori dal suo sacco cose antiche e cose nuove, cioè una sapienza antica che possiamo dire poggia le radici nell'Antico Testamento, ma una sapienza nuova, quella del regno che Gesù ha portato, che è Gesù stesso. Accogliere lui significa portare fuori cose antiche ma anche le novità più grandi della storia e della vita, perché è la novità che dà gioia, dà pace, dà benessere profondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.